Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento a cura della comune di Santa Marinella, abbiamo di nuovo in studio il sindaco Pietro Tidei. Buonasera Tidei. Buonasera. Iniziamo questo nostro spazio parlando dell'appuntamento importante che si è registrato lunedì proprio a inizio di questa settimana, tra l'altro nel comune di Santa Marinella, un incontro con i sindaci del territorio per andare avanti nell'iter che porta alla costituzione della provincia Porta d'Italia, quella che era stata ribattezzata anche la provincia del litorale, ma insomma il nome poco conta, l'importante è, secondo i sindaci che stanno prendendo parte a queste iniziative, è di andare avanti, slacciandosi definitivamente dalla città metropolitana di Roma per, diciamo così, aprire le porte ad una nuova provincia. Tidei un altro passo in avanti quello di lunedì. Ma credo che più che passi in avanti siamo ormai addirittura d'arrivo, perché inizialmente dovevano essere 15 sindaci, perché noi abbiamo individuato in 15 comuni la stessa circoscrizione del Tribunale, la stessa, identica, la stessa circoscrizione e che quindi su questo abbiamo ritagliato questa nuova provincia che si chiama la Porta d'Italia, perché d'Italia? Perché diciamo nessuna provincia d'Italia intanto ha nome d'Italia dentro, nessuno, ma poi perché siamo la vera Porta d'Italia, perché abbiamo l'aeroporto più grande d'Italia e abbiamo il porto croceristico più grande d'Italia, quindi via mare o via era, noi siamo veramente la Porta d'Italia e ovviamente anche di Roma e che significa che noi oggi siamo la provincia più omogenea, più omogenea, perché il Tribunale è quello. Siamo la provincia che diciamo così con 15 comuni avremmo una, noi l'abbiamo chiamato un protagonismo diffuso, nel senso che tutti i comuni conteranno per quello che sono, non come oggi dalla città metropolitana noi non abbiamo niente, io sono stato 20 anni in provincia di Roma e so quello che era la provincia e so quello che ha fatto la provincia per questi luoghi, purtroppo la città metropolitana dobbiamo dire che ci abbiamo creduto in tanti, ma è stata una grande delusione, una grande delusione, perché se c'è da portare un deposito di immondizia la portiamo fuori Roma, basta che guardiamo quello che è successo a Civecchia, io quando ero sindaco ci eravamo fatti una discarica nostra che doveva essere valida per i prossimi vent'anni, è arrivata Araci, l'immondizia di Roma l'ha portata a discarica Civecchia, in sei mesi ha riempito la discarica e noi adesso l'immondizia la portiamo a Viterbo, Santa Maria andrà portata a Viterbo, Civecchia, Dolphallumi a Viterbo, è evidente che allora la città metropolitana se deve servire soltanto a Roma? No, viceversa noi ci facciamo un territorio nostro, ce lo gestiamo noi e tra l'altro lo facciamo in funzione della riforma del Rio, quella riforma che di fatto ha massacrato le province, oggi si sta rivedendo e con la riforma della legge del Rio probabilmente ritorneranno alle province le vecchie competenze e che segnerebbe che allora diventeremo veramente un territorio importante, importantissimo, abbiamo il mare, abbiamo l'Etruria, abbiamo i Romani, abbiamo l'archeologia, abbiamo l'ambiente, abbiamo un turismo che voglio dire con il grande aeroporto, con il grande porto sicuramente dovrà, ha bisogno di qualche altra cosa che finora non c'è stato e noi saremo protagonisti di questo, oggi i 15 comuni che farebbero 318 mila abitanti probabilmente non ci sono, chiederemo al lago di Bracciano se ci vuole stare, ma per noi se ci sta o non ci sta è la stessa cosa perché non è quella la cosa, ci dispiace solo che Cervetti è l'unico comune che oggi è centenna, che mi auguro però che la sindaca Gumbetti possa trovare nella sua maggioranza un atto di risipiscenza, anche perché noi pensiamo che comunque ci sta Gumbetti o ci sta Gumbetti con la maggioranza dei comuni che votano verrà inglobata, quindi la provincia di Porta d'Italia si farà comunque con Gumbetti o senza Gumbetti, noi ci auguriamo che faccia parte della squadra e quindi ci auguriamo che lei possa effettivamente starci, dopodiché adesso noi andiamo a marzo a convocare tutti i consigli comunali per approvare questa delibera e quindi una volta approvata la delibera si va in Parlamento, ma il Parlamento non ha più un compito di legiferare, il Parlamento può valutare soltanto la correttezza delle delibere, dopodiché la provincia è quella e quindi non è che può dire no, non la facciamo, non può dire no, tant'è che noi ci agganciamo adesso ad altre due province in corso e quindi se prenderemo questo treno noi nel giro di 6-7 mesi massimo un anno avremo la provincia e quindi avremo una provincia dove i comuni saranno protagonisti, dove effettivamente questo territorio verrà gestito in maniera diversa e che poi ci sarà la Prefettura, la Questura, l'Ina, il Codi, ci saranno un mare cose che troveranno dislocazione non tutti a Civecchia, non tutti a Fiumicino, ma troveranno che ne so, la parte agricola Cervete o Monte della Tolfa, la parte culturale che può essere venita, la parte sanitaria che sarà da Dispoli perché sarà epicentrica, quindi ci sarà tutto il territorio che partecipa alla gestione di questo gran dentro che non sarà più monocentrico, ma sarà policentrico dove tutti i territori conteranno e quindi saranno protagonisti di un protagonismo diffuso. Vi siete dati un altro appuntamento di dei oppure vi siete lasciati con l'intento di questo passaggio importante entro marzo nei vari consigli comunali? Abbiamo deciso che entro marzo si vanno i consigli comunali, purché noi superiamo i limiti di 200 mila abitanti e già con questi comuni che hanno aderito ci siamo, dopodiché chi ci sta ci sta, chi non ci sta rimarrà in fondo al carro, ma non ci interessa niente, hanno perso una grande opportunità, ritengo che hanno perso una grande opportunità, adesso invieremo a tutti i sindaci uno studio che abbiamo fatto molto bello, economico, finanziario, legislativo, un va de me, come che adesso lo invieremo a tutti, lo stamperemo, dopodiché però non abbiamo detto a marzo si va in consiglio comunale, decideremo il giorno, probabilmente dal 20 al 27 marzo andremo in consiglio e quindi in quel consiglio sicuramente ogni comune deciderà le proprie sorti, mi auguro che molti consigli ci stiano, poi se saremo 12 o saremo 15 non fa niente, è essenziale che superiamo i 200 mila abitanti, già in 10 comuni superiamo i 200 mila abitanti, quindi non è un problema. Ha visto l'ok però di parte e della maggior parte dei sindaci? Siamo tutti convinti, da Fiumicino a Tarquini, a Civia Vecchia, a Santa Marinella, a Tolfo, a Lumiere, siamo fortemente convinti, a Ladispoli, c'è una convinzione, basterebbe poi questi comuni, Fiumicino, Ladispoli, Tolfo a Lumiere, Civia Vecchia, Santa Marinella, Monte Romano, Montalto, Tarquini, siamo già superi a 200 mila abitanti, quindi la provincia c'è comunque, poi chi si aggrega si aggrega, chi non si può aggregare e non vorremmo che diventasse una questione politica, perché se diventa una questione partitica o politica vuol dire che partiamo con il piede sbagliato. dobbiamo essere la provincia dei sindaci, la provincia che guarda un futuro al di là dei partiti che in questo contesto debbano contare, meno che sia possibile, quello che conta è il futuro del nostro territorio e oggi finalmente, dopo anni e anni di discussioni, grazie alle testardaggini di alcuni di noi, Mia, Baccini, anche Tedesco, anche Giolivi, siamo riusciti a far fare un passaggio e Ladispoli anche che è molto convinto, c'è Tolfo a Lumiere, siamo convinti di poter andare su questa zona. Serve un clima disteso anche perché ci sono diversi nodi da sciogliere, ovviamente opportunità per questo grande territorio, ma anche dei doveri, insomma in qualche modo da cresvolgere. Ci saranno grandi opportunità per tutti, ci saranno anche dei doveri, certamente, ma noi saremmo una provincia che intanto ha più risorse, perché oggi qual è il problema vero? Che la città metropolitana spende un mucchio di danaro per ammortizzare gli interessi, perché? Perché il Torrino che l'hanno pagato un mucchio di sordi e le scuole e tutto, sono soldi che devi, fatti con mutui, che mutui hanno la loro scadenza, un loro ammortamento. Noi partiremo praticamente liberi, quasi senza mutui, 4 strade e 4 scuole, ma non è che ci abbiamo di più, per cui noi tutti i soldi della città metropolitana vengono impiegati a pagare i debiti. Noi partiremo quasi senza debiti, punto zero con una burocrazia che non è più elefantiaca come quella di una notte, la burocrazia sarà leggera, sarà snella e daremo l'opportunità a molti che oggi sono impiegati alla provincia o negli enti pubblici regionali che vanno tutte le mattine a Roma, se dislocheremo il servizio agricoltura a Cervetri, ci saranno quelli di Cervetri che vanno a lavoro a casa, quell'altro va a lavorare a Civile Vecchia, quindi voglio dire, ci sarà un rinnovamento che però porta una linfa vitale nuova a questa nuova organizzazione che sicuramente sarà veramente la svolta per questo territorio. Sicuramente un tema molto importante quello che ha aperto questa settimana e che come ha detto il Sindaco di Dei passerà dai consigli comunali entro il mese di marzo e a proposito di consigli comunali si è svolto un altro consiglio comunale bis, replica potremmo dire, a Santa Marinella con al centro la sfiducia proposta dall'opposizione al Sindaco Piero Tidei, ancora una volta Tidei come l'ha definito lei stesso, un buco nell'acqua. Un disco rotto, un buco nell'acqua, un disco rotto perché prima hanno presentato la richiesta di emissione al Sindaco, bocciato, poi hanno presentato la richiesta di sfiducia al Sindaco, bocciato, poi non paghi per un errore del Serraro comunale sulla votazione, l'hanno ripresentato, l'ha ribocciata e sto disco rotto, ma quanto deve suonare? Voglio dire, ma questi non hanno capito che hanno perso le elezioni, ma l'hanno perse al primo turno, non è che l'hanno perse in ballottaggio, quindi avendo aperto bruttamente l'elezione, io capisco che Santa Marinella era un comune di destra e però poi c'è qualche volta che la destra perde pure, allora hanno tirato fuori parlamentare, il vicepresidente della Camera, hanno fatto veramente un credo troppo rumore e ancora non accettano il peso di una sconfitta che è stata grave, una sconfitta gravissima per loro, perché tutti insieme si sono fatti sconfiggi da Tidei e dai suoi alleati che oggi hanno una maggioranza compatta, come ogni votazione che c'è noi siamo compatti, probabilmente devono guardare, invece la minoranza ogni tanto si sfragge qualcuno, qualcuno fa dichiarazione, qualcuno non ce va, quindi il problema è della minoranza, non è della maggioranza, la maggioranza è compatta, abbiamo un grande programma, basta dire che ieri abbiamo firmato un accordo con l'Arsia, non l'accordo, il contratto di cessione del cantinone, cioè di una grande struttura con 70 anni di terreno intorno a chi? Al comune di Santa Marinella, e noi siamo diventati i proprietari, ci siamo comprati da dissestati che eravamo, ci siamo comprati un comune nuovo, un comune che è bellissimo, ci siamo comprati un pezzo di terra, adesso ci compreremo altre questioni, abbiamo espropriato i terreni per tirare fuori dopo 2500 anni, c'è un teatro e una casa, diciamo una casa, una città militare sotterrata per 2300 anni, non l'abbiamo tirata fuori, abbiamo espropriato i terreni, ci abbiamo messo i soldi noi, non ci poteva mettere la sovrintendenza perché non aveva soldi, li abbiamo messi noi, quindi il nostro è un comune in espansione, abbiamo fatto una limonaia, molti dicono, non è vero che questo è limone è una limonaia, abbiamo dovuto fare fotografie dei limoni attaccati alle piante che abbiamo piantato otto mesi fa, voglio dire, siamo a ridicolo, è un'opposizione che è ridicolizzata e continua tutti i giorni con il discorrutto a ripresentare l'interrogazione di Rampelli e le intercettazioni, otteneremo che queste intercettazioni che sono state fatte, hanno portato a rinviare a giudizio e all'indagine di più persone e io sono quello che li ha denunciati, quindi queste intercettazioni sono servite per rinviarli a giudizio e questi ancora uno ce l'hanno dentro il Consiglio Comunale, io credo che si dovrebbero semplicemente vergognare, ma tu stai a parlare di una questione morale, quando il Sindaco è stato quello che ha denunciato, il Sindaco e la Procura della Repubblica che li ha rinviati a giudizio per corruzione, corruzione e sulla denuncia del Sindaco, questo è su quello che hanno fatto, sulla diffusione di immagini che non si doveva fare, un'accusa gravissima per cui si prevengono sei anni di galera, sei anni di galera con misura massima, c'è l'anno il Consiglio Comunale e l'opposizione, ma di che parli? Il suo appello di mettere un punto su quella vicenda e di iniziare a fare opposizione nel merito delle questioni? Noi andiamo avanti con l'opposizione o senza, se l'opposizione fosse un'opposizione matura che presenta progetti, noi siamo disposti a valutarli, ma se l'opposizione deve suonare sempre questo ricco rotto, si troverà sempre di fronte a una maggioranza compatta, forte che ovviamente rintuzzerà tutte le questioni stupide, ma veramente stupide, adesso noi abbiamo dichiarato un dissesto, ma l'ha dichiarato più che io, l'ha dichiarato la Commissaria Prefettizia, perché ha trovato 14 milioni di entrate farse e l'ha cancellata e noi siamo partiti con meno 14 milioni, quella l'ha cancellata e le ha definite entrate insussistenti, perché? Perché la vecchia maggioranza su cui adesso indacherà la Corte dei Conti anche, per far quadrare il bilancio delle spese, ci aveva messo 14 milioni di entrate che non erano vere e la Commissaria gliel'ha cancellata, per cui sono 14 milioni di debiti… I conti non tornano… No, non tornano, c'erano il bilancio 14, più c'erano i debiti fatti che l'amministrazione Bacheca non ha più pagato, Bacheca aveva chiesto 5 milioni di anticipazione di cassa, non ha più restituiti, e chi l'ha restituiti? Noi, abbiamo dovuto restituire, ma su queste cose qui io credo che veramente da regazzini, li lasciamo perdere… E c'è anche un Consiglio Comunale prossimo che avete già convocato, no? C'è un Consiglio Comunale per le interrogazioni, possono fare tutte le interrogazioni che vogliono, poi dice, ah vogliamo sapere… Io ho detto e mi sono vantato di dire finalmente siamo riusciti ad avere in proprietà il Cantinone che adesso diventerà un centro culturale, ma anche un centro sociale, un centro per il volontariato, la cocche, la protezione civile, i sommossatori, quindi diventerà un grande centro, un grande barco, un grande parco intorno dove i 13 marchi che non abbiamo, ci hai chiamato che ci sono 13 marchi pubblici, ci hanno 3, 4, 5, noi ce ne abbiamo 13, ma con questo 14, bene, noi abbiamo fatto questa cosa, uno, non dico la parolaccia perché non lo voglio dire, ma che ci dice vogliamo che sia pubblicato l'atto notarile, ma l'atto notarile è un atto pubblico, lì lo vedi, voglio dire, delle scemenze tali che come si fa a pensare, ma questo sarà pure candidato da SID, vuole che pubbliciamo un atto che è pubblico, ma valla a vedere, non è pubblico, va all'ufficio dirigente e vedi quello che vuole. Per quanto riguarda invece il discorso con l'ASL per quello spazio che avete messo a disposizione dell'ASL Roma 4, si procede? Sì, adesso faremo un incontro con la Matanga, mi ha chiesto proprio stamattina un incontro con i due tecnici, Mencarelli e Crostella, la figlia Crostella, per vedere a che punto stanno le questioni, quello che la sovrintendenza ci chiede e che quindi non gli dovremo dare, tranquillo. I tempi sono avanti perché il 2026 c'è per tutti, per il PNR, giugno 2026 finisce, se non si fa in tempo vuol dire che perdiamo i soldi e credo che l'ASL non si può permettere di farci perdere i soldi, ma l'ASL credo che lavora bene e non ci farà perdere niente. Direi a proposito di notizie di stretta attualità, non solo Santa Marinella perché qualche giorno fa ha fatto un po' il giro delle chat, ma anche di internet di uno studio che riguardava dei numeri relativi alla corsa verso Palazzo del Pincio, quindi alle elezioni comunali di Civitavecchia che ci saranno, come tutti sanno, a giugno prossimo. La prima novità, dato che ha fatto ovviamente notizia, è il fatto che tra i nomi dei candidati o papabili tali, perché poi alcune questioni devono essere ancora sciolte, in particolare al momento nel centro-destra c'era anche il suo nome, c'era il nome Liviano Di Dei, ci sta pensando? No, credo di no, però non è per caso che ha fatto notizie, tanto il fatto che in questo sondaggio, ripeto, fatto da Marco Coccia che è un sondaggista che è molto bravo, perché lui ha questo sistema di fare sondaggi one to one, cioè faccia a faccia. Chi l'ha commissionato? Commissionato credo Coccia, ma sicuramente Coccia che è anche un mio amico, certamente si è voluto togliere questo sfizio per capire come eventualmente una candidatura di Di Dei potesse essere vista in città e questa candidatura, devo dire, mi ha molto gratificato perché ho visto che in questo sondaggio Di Dei è al primo posto col 27,3, seguito al 19,9 da Grasso, poi tedesco, poi via via, pien di bene ed altri. Ovviamente questo sondaggio, soltanto a titolo di curiosità, mi fa piacere perché posso dire che ancora dopo anni, ancora ci via vecchia, ho un certo seguito, che poi questo significa che io mi candido, non è così, perché sono stato eletto poco tempo fa a Santa Marinella, vorrei concludere la mia carriera a Santa Marinella, però devo dire che mi affascina, non posso dire che non mi affascina l'idea che in questa città, voglio dire, ci possa essere un'amministrazione rinnovata, ovviamente io non sarei rinnovamento, anche se io sono andata a rinnovarmi a Santa Marinella, risciacquato, come si dice, nel ganci, però posso dire che questo mette in evidenza che cosa? Anche un quadro politico che è abbastanza consumato. Un'offerta politica che non convinte? È un'offerta politica scadente, per lo meno è quel sondaggio, però io vorrei dire agli altri che mi hanno detto, ma è il sondaggio tuo, ma perché non vi fate il vostro dei sondaggi? Voglio dire, prendetemi il sondaggista, fate sondaggio e pubblicate questo sondaggio, io è un anno che sento dire, ti ricordo che si rifece un altro sondaggio o l'altro, però tutti a criticare quel sondaggio, ma nessuno si è fatto fare mai un sondaggio, ma fatevi fare un sondaggio, prendete quattro sondaggi, ma non lo so, è l'inedia, perché se tu non credi a un sondaggio e fai bene, te ne fai un altro e tiri fuori il tuo sondaggio, ma se tu continui a dileggiare quello degli altri è sbagliato, perché qui uno ci ha messo la faccia e quindi io ritengo che oggi a Civitavecchia se posso dire qualche cosa, se posso dirle, ma siccome sono un sindaco, ma sono anche un dirigente di un partito, la mia aspirazione o quello che sto guardando con interesse è che il centro-sinistra trovi un candidato spendibile, competitivo, che non perda, perché oggi noi vogliamo un candidato che vince, perché se io me devo accontentare di un candidato che perde, non ci perdo tempo, per quanto mi riguarda non ci perdo tempo, se viceversa si spende un candidato che unisce i moderati e il centro-sinistra, io mi spenderò moltissimo per questo candidato, ovviamente noi pensavamo, io nel frattempo ho pensato e pensavo che Poletti, tanto per intenderci su Poletti fosse forse il miglior sindaco della città. Ed è uscito anche lei proprio su questo tema, mandando un comunicato stampa, chiarissimo. Poletti era e sarebbe stato, lo sarebbe tuttora credo se vincesse, non dalla mia parte Poletti ovviamente, ma sarebbe, io voglio essere obiettivo, Poletti è uno che ha rappresentato in contesti internazionali, voglio dire l'Italia, non è l'ultimo arrivato, è uno che io ho visto il suo programma, voglio dire ha delle idee fortissime, io l'ho definito una manna dal cielo, se Poletti fosse il candidato vincente lo considererei una manna dal cielo per Civitavegna, il problema è che prima di essere sindaco, di essere eletto sindaco e prima di essere eletto deve essere conosciuto e oggi credo che il grado e il livello di conoscenza di Poletti sia abbastanza basso e poi Poletti stesso non ha ancora chiarito, anzi l'ha chiarito perché lui ha detto io vorrei essere candidato del centrodestra, è ovvio io perché ho scritto quella lettera. Ed è qui che arriva il comunicatore di te, che prende le distanze. Ho detto se tu sei partito da civico, era civico perché quando abbiamo parlato, io ci ho parlato con Poletti, lui dice io voglio essere qui distante del centrodestra e centrodestra, siccome però mi ricordo che lo chiamavo il generale russo, amico di D'Alema, tutta questa roba qui. Io pensavo che era un candidato civico moderno, progressista e che quindi probabilmente aveva lavorato anche nel mio partito per portare chi del mio partito ovviamente voleva, o speriamo tutto, sotto la guida di uno che sarebbe stato, sarebbe stato e lo sarà ancora, un forte sindaco nell'interesse della città. Poi quando leggo che questo vuole essere il candidato del centrodestra e dico allora fermi tutti, io sono 55 anni che sono iscritto a un partito, lì rimango e non è che mi metto a sostenere un candidato che è sottenuto da Fratelli d'Italia, guai, vai. E quindi le strade si sono devise. Adesso non so che cosa succederà nel centrodestra. Perché ancora non è chiaro. Non lo so, io stiamo a guardare se sarà tutti i giorni, c'è una guerra tra Tedesco, Grasso, Desio, Lamari, vediamo chi sarà, chi esce fuori da questo guazzabuglio, sta di fatto che anche il centrodestra dovrà decidere, non credo che deciderà tra due mesi, credo che dovrà decidere. Se sceglierà Poletti, Poletti sarà il candidato di centrodestra e non è certamente il mio candidato. Se viceversa Grasso, Tedesco e così via si accordano come sembra e la cosa veramente mi pare strana, questo lasciamolo dire, io ho visto tutta la guerra che si sono fatti. E ha visto la foto anche, no? Eh sì, io ho visto la guerra tra Tedesco, ma si è andato a tutti i colori, quel povero Tedesco ce l'ha rosso tutte le settimane. Sul giornale di Grasso c'era sempre il rosso, cadeva sempre, cadeva sempre e poi quello che si è detto sul Tedesco da Marte di Grasso credo che è inenarrabile. Oggi che ne vedo prende il caffè insieme, se il caffè è soltanto il gusto per un caffè va bene, va bene pure più. Significa che la politica si mette da parte per un momento? Per un momento. Se però il caffè significa che hanno fatto un accordo, io credo che si riproporrà nella prossima amministrazione nel caso dove si vince la stessa divisione, la stessa guerra che c'è stata per 5 anni, abbiamo visto la città per 5 anni, non è andata avanti, non è fatto niente, non ci sono, ci sono progetti, 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 i termi stanno lì, i tarcimenti stanno lì, le grandi opere pubbliche non si sono fatte, lo stadio è ancora, voglio dire, non c'è, è stato niente di concreto. Allora se tanto ma è da tanto, vuol dire che se anche trovassero l'accordo, sarà un accordo soltanto per il portone, ma che si ammazzeranno uno con l'altro anche dopo, perché credo che i livelli di litigiosità siano tali a tanti, per cui mi pare abbastanza difficile che si possa comunemente concordare per portare avanti un programma comune, però come si dice, la politica è l'arte del possibile, se sarà, ben venga, io non è che voglio, ripeto, sono per certi vesti esterni, ma essendo cittadini di Ciccacchia, concorrerò col mio apporto a definire, mi auguro un quadro politico all'interno di un quadro progressista che veda un candidato nuovo nel segno del rinnovamento, rinnovamento, perché oggi dobbiamo dire anche da quel sondaggio che sarà a Fasullo, non c'è un grande consenso attorno ai candidati né del centro-destra né del centro-sinistra, allora io vito i miei avversari o compagni o amici di partito, fatevi un sondaggio, fatevene due semmai perché uno potrebbe essere poco, vi fate i sondaggi e poi mettiamo a confronto questi sondaggi perché può darsi che dal sondaggio esce la novità, che ne so, arriva Mario Rossi che prende il 50%, ma stiamo tutti con Mario Rossi. Il quadro non è chiaro ancora, lei ne ha fatte diverse di campagne elettorali, anche spesso poi riuscendo nell'obiettivo, centrando l'obiettivo di essere eletto come sindaco, siamo arrivati quasi a marzo, è presto, è tardi per sciogliere le riserve e chiarire un po' la situazione? Secondo me è tardi, io venendo su ho incontrato un attuale consigliere del comune e mi ha voluto salutare, no dovete candidare a Marietta del centrodestra, candidate Marietta perché se no noi votiamo per Marietta, tutte queste cose qui che si dice, no? Gli ho detto ma tu con chi stai? Non lo so, come lo stai? Se è un consigliere comunale? Ah non lo so io, cioè non sanno ancora molti consiglieri che stanno in campagna elettorale, vada bene, ci sono molti consiglieri, anzi tutti stanno in campagna elettorale, hanno già fatto l'alleanza uomo-donna e stanno gli dando i voti per loro, ma non gli dicono per quale sindaco perché non lo sanno, stanno a aspettare che da Roma arriva l'imboccata. Siamo in ritardo secondo lei? Ma siamo in ritardo perché questa storia del centrodestra se la batteranno ancora fino al 10-15 aprile, fino al 10-15 aprile e quello che mi dispiace è che lasceranno Poletti attaccato ancora a questa speranza che poi quando arriverà il 15 aprile non sarà più spendibile. Titei ha detto un altro nome però, quello di Marietta Ditei di cui ogni tanto si parla, è una possibilità? Marietta Ditei dice a me, non lo so, è Marietta Ditei, non lo so perché è Marietta Ditei, è casa sua, non sta a casa. Assolutamente. Lei è molto tentata, in tanti glielo chiedono, ma glielo chiedono in tanti 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 tanti, però lei dice io non voglio andare a fare il sindaco perché pure lei vede questo quadro molto frassagliato, litigioso, difficile, litigioso, Renzi tutti i giorni gli chiede di candidarsi al Parlamento Europeo, tutti i giorni glielo chiede, e lei dice se ho questa possibilità… Non ha sciolto ancora le riserve? No, non l'ha sciolto le riserve perché anche lei è indecisa, però presumo, io da padre consiglierei a Marietta di non buttarsi in questa mischia perché ci è una città difficile, litigiosa, ma soprattutto che le grandi liti la rendono inconcludente e se Marietta domani si trovasse dentro a queste liti un'altra volta sarebbe inconcludente pure lei, lei oggi ha un buon nome, spendibile, c'è la possibilità dell'Europa e quindi Marietta tenta questa possibilità, poi come si dice le elezioni si vincono, si perdono, ovviamente io se fossi in lei e sono il padre gli consiglierei di accettare questa sfida europea, poi lei può decidere di fare quello che vuole. E ti dai, chiudiamo come abbiamo aperto, perché Civitavecchia anche per le elezioni che poi si concluderanno come abbiamo detto a giugno sarà capofila, potrebbe essere capofila di questa nuova provincia, no? Perché comunque è una delle città più importanti, l'ha detto lei, è quella che ha il porto, Fiumicino all'aeroporto sicuramente è uno dei comuni più forti, uno dei due comuni, perché noi abbiamo due poli, abbiamo Civitavecchia attorno alla quale ruota un polo. Volevo dire che non può essere il concludente, Civitavecchia deve essere il concludente. No, Civitavecchia sarà protagonista, è una delle due protagonisti, ma noi abbiamo detto protagonista diffuso, perché non è detto che a Civitavecchia ci può essere l'assessorata all'agricoltura, no, l'assessorata all'agricoltura può stare ad Olfa a Lumiero, può stare a Cerveti, la Policlinico, diciamo così, perché dovete sapere che nella nuova provincia c'è il Policlinico, l'Università, un Ateneo sanitario, questo potrebbe essere Ladispoli, Polo Ladispoli Cerveti, ma è importante un Ateneo, un'Università con un Policlinico della provincia, ci sarà, perché è previsto, quindi voglio dire, ci saranno tutti i territori che partire, Tarquinia, che è un monumento, diciamo è un UNESCO, ma sicuramente Tarquinia sul piano della cultura, dell'archeologia e dell'agricoltura giocherà un ruolo importante, sul turismo Santa Mariela giocherà un ruolo importante, quindi dico finalmente rinasce una svolta per questi territori, ma io lo dico così convinto, perché ho studiato, io e Michetti, il professor Michetti, insieme a Baccini, credo anche insieme a Ernesto, insieme ad altri, bene o male abbiamo sviscerato il problema e abbiamo visto, anche le cifre alla mano, che noi saremo una provincia tra le più ricche d'Italia, perché in termini di popolazione e dei territori abbiamo risorse più che sufficienti per riportarle sul territorio, cosa adesso che da città metropolitana arriva niente, 2000 Euro, 1000 Euro, 3000 Euro, ma che è questa la provincia? Volevo dire che Civilecchia, appunto in vista anche delle prossime elezioni, deve cambiare passo rispetto a quello che è stato, no? Anche in vista di questo poterà… Io credo che se facciamo la provincia e la nuova classe dirigente o chi vincerà l'elezione, sicuramente si dovrà mettere in testa che oggi un ruolo determinante che avrà nella nuova provincia, presuppone anche una classe dirigente nuova o quantomeno più disponibile a fare meno litigi, ma operare più nell'interesse del territorio. Al di là dei partiti, voglio dire ormai, tant'è che con un sindaco, anzi con due sindaci, pochi giorni fa scherzando, abbiamo detto ma vogliamo fare un nuovo partito che è il partito dei sindaci, partito dei sindaci, ma sai in Italia quanto ci farebbero su questi? Tanta gente che vedi, si approva al terzo mandato, non terzo mandato, torno alla riforma delle provincie, ci si trovano i sindaci indipendentemente da quello che è la posizione dei propri partiti. Cioè chi sul campo c'è stato? Oh bravo, allora noi scherzando diciamo ma vogliamo fare partito dei sindaci, allora facciamo questa provincia e poi discutiamo. Benissimo, con questa nuova notizia lanciata nel finale della trasmissione chiudiamo il nostro spazio, ringrazio il sindaco di Santa Marinella Pietro Di Dei per essere stato con noi, grazie Di Dei. Grazie a voi. E ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Però una battuta me la devi fare. Su Santa Marinella io vorrei ai cittadini di Santa Marinella, per quelli che ci vedono e decivi la vecchia, che c'è un polverone arzato dall'opposizione, ma sempre su cose inconsistenti, di fronte a un comune come il nostro che macina ogni giorno dei liberi investimenti, 22 milioni di PNR, siamo il comune di Lazio dopo Fiumicino che c'ha più finanziamenti di tutti. Ma quello che noi facciamo, proprio ritornare a Santa Marinella che è il mio comune, io vorrei che la nostra opposizione non solo ci desse atto di questo, ma contribuisse e collaborasse a far marciare le cose come debbono marciare. Per il resto quando voi vedete scritto sui giornali che sono un po' molto solidali con l'opposizione, facciamo pure una divisione e soprattutto facciamo un distingo, perché spesso l'opposizione arza un polverone ma poi stringe e stringe e non c'è niente da proporre, noi vorremmo proponere qualche cosa e noi ne prenderemo altro, se continuate a fare demagogia rimarrete sempre indietro. E Piero Di Dei ha ribadito nuovamente il concetto lanciando un nuovo appello all'opposizione nel comune di Santa Marinella. Stavolta chiudiamo davvero la trasmissione grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Arrivederci.